Grazie a tutti. Tuttavia cerchiamo di restare però adesso sul discorso salute perché torna anche in questo martedì la rubrica le pillole di Gea. Oggi ci occupiamo di intestino pigro e saluto Jane Birgiri che è titolare della Gea Group. Ben ritrovata, buongiorno. Allora intestino pigro, devo dire che questo è un tema sempre di strettissima attualità purtroppo e riguarda tante donne. Lei me lo potrà confermare? Assolutamente. Purtroppo quello dell'intestino pigro è un fastidio a volte anche molto ingombrante da gestire che colpisce soprattutto le donne. Anche seppure gli uomini non si sottraggono. Però diciamo che le donne sono sicuramente più soggette. Ma perché così tante persone soffrono di questo problema, di questo disturbo? Innanzitutto dobbiamo dire che le donne sono la maggioranza per dei motivi ben specifici. Innanzitutto perché sono soggette a cambiamenti ormonali e gli ormoni vanno ad incidere in maniera importante sulla peristalza intestinale. Poi un altro problema sicuramente importante e che trascuriamo è che l'intestino è il nostro secondo cervello. Le donne spesso sono molto emotive, fanno mille cose in una giornata e questo sicuramente non aiuta. In generale le motivazioni per cui tantissime persone soffrono di stipsi, costipazione, stitichezza, possiamo raggrupparle in tre macro aree. La prima è che non si muovono, non si fa attività fisica e un intestino pigro purtroppo fa fatica ad evacuare. Quindi questo sicuramente è la prima motivazione. Poi non si beve abbastanza acqua. Le feci per diventare morbidi hanno bisogno di acqua, quindi bisogna bere almeno un litro e mezzo o due litri di acqua al giorno. E l'alimentazione non per ultimo, perché se facciamo un'alimentazione che è povera di cereali integrali, di fibre, quindi frutta, verdura fresca o anche cotta, purtroppo non va bene e quindi andiamo ad aggiungere delle problematiche all'intestino. Ovviamente escludiamo tutte quelle patologie che andrebbero diagnosticate e su questo rimandiamo a medici specializzati. Mi sembra però un discorso molto interessante anche quello relativo allo stress, di cui tutti noi un po' soffriamo per via della vita che conduciamo e che poi ricade un po' su tutto quello che è il nostro organismo, anche per l'intestino che diventa pigro. Sì, l'intestino è il nostro secondo cervello, lo è veramente, dobbiamo iniziare a comprenderlo. Quindi se abbiamo dei ritmi di vita frenetici, non ascoltiamo anche gli stimoli del corpo, rimandiamo, questo purtroppo diventa un problema. E ecco perché colpisce anche e soprattutto le donne. Io mi immagino la classica donna italiana, si alza la mattina, sveglia i bambini, fa la colazione, corre, li porta a scuola, torna, va al lavoro. Tante cose, tante attività, tanti pensieri e questo purtroppo non aiuta assolutamente. Lo stress è una di quelle condizioni che principalmente va ad incidere sulla stitichezza. E allora cerchiamo di comprendere se ci possono essere dei rimedi naturali per aiutarci a stare meglio anche sotto questo profilo. Che cosa potresti indicare? Solitamente purtroppo chi soffre in maniera da tanti anni di questo disturbo fa uso di sostanze naturali ma irritanti, come ad esempio la senna e il rabarbaro, che sono tra i fitoterapici che maggiormente incontriamo negli integratori di utilizzo comune che troviamo in farmacia e in erboristeria. Bisognerebbe però utilizzarli veramente poche volte perché sono irritanti delle mucose intestinali. Quello che posso consigliare che è efficace ma ha un effetto più dolce è sicuramente il magnesio. Il magnesio ce ne sono di tantissimi tipi. Quindi quando vado in giro, che parlo con le persone, mi dicono Ma io uso il magnesio, sì, ma quale tipologia? Perché di magnesio, di questo sale minerale, esistono veramente tantissime tipologie. C'è il magnesio bisglicinato, il malato, l'ossido, il citrato. Qual è il tuo consiglio? Il magnesio carbonato è sicuramente quello più idoneo per chi soffre di stitichezza. Ha anche un effetto antiacido, quindi aiuta anche per chi soffre di bruciori di stomaco, ma sicuramente è quello più indicato. Quindi se chiedete un integratore che abbia magnesio carbonato. Magnesio carbonato, ecco, che quindi evita anche l'irritazione in questo caso. Sì, sì, non è irritante. E altre sostanze naturali? Allora, una sostanza poco conosciuta, che invece è molto efficace, è la trifala indiana. È una planta che la medicina ayurvedica utilizza da millenni, è composta da tre frutti e è un ripulitore proprio intestinale. Serve a disintossicare l'intestino, tutta la parte del colon, ma anche il fegato. E quindi può aiutare molto. Inoltre c'è l'obsiglio, che è un fitoterapico piuttosto conosciuto. I semi di questa pianta aiutano proprio perché a contatto con l'acqua nell'intestino aumentano di volume e favoriscono l'evacuazione. E si compostano anche come dei prebiotici. Quindi vanno proprio a favorire la nascita dei batteri che servono per la flora intestinale. Jane, tu prima parlavi dei cambiamenti ormonali, no? Quindi mi viene in mente il periodo della menopausa, di cui ci siamo ampiamente occupate. Quindi ti domando se chi già soffre di intestino pigro può avere ulteriori problemi in questa fase della propria vita. Ovviamente mi riferisco alle donne. Assolutamente sì, durante la menopausa, ma anche durante la gravidanza. La stitichezza è un problema molto comune delle donne in gravidanza, in allattamento, ma anche prima del ciclo mestuale. Quindi vediamo che ogni volta che c'è un cambiamento ormonale, questo fastidio va ad aumentare. Ed ecco che i consigli che abbiamo dato prima possono essere molto utili. Ci sono anche dei frutti che mi sento di consigliare, che sono le prugne, i kiwi e le pere. Sono tre frutti che se impariamo a mettere quotidianamente nella nostra alimentazione, se si ha questo tipo di fastidio, aiutano molto. Oltretutto il kiwi ha tantissima vitamina C, più delle arance. Ovviamente noi ci concentriamo, in questo caso, date le tue competenze sulle sostanze naturali, ma poi ci sarebbe un discorso veramente ampio da fare, che passa attraverso l'alimentazione, oppure il movimento, quindi l'attività anche sportiva, che può certamente aiutare. Tu mi potrai confermare. Siccome ogni volta che si parla di attività sportiva, poi le persone subito dicono, ah, non ho tempo, impariamo però, se non abbiamo il tempo di fare quelle tre, quattro volte di sessioni di palestra, adesso che sta arrivando la bella stagione, approfittiamo per andare a piedi a fare le commissioni. Camminare per l'intestino è un vero tocca sana, quindi non serve andare in palestra. Impariamo, prendiamo l'abitudine di fare le scale, di andare a piedi a fare la spesa, le poste. Quindi impariamo a muoverci facendo quello che dobbiamo fare quotidianamente. Sì, in effetti poi sono tanti gli alibi che poniamo dinanzi alle nostre mancanze, che poi sono mancanze verso noi stesse, perché si tratta semplicemente di adottare degli stili di vita che possano aumentare la nostra qualità a livello proprio di conduzione del nostro quotidiano. Quindi è importante fare determinate scelte e per esempio, anziché prendere l'ascensore, si può optare per fare qualche rampa di scala in più, oppure una passeggiata, non adagiarsi, specie in questi accenni di primavera, come giustamente diceva Jane, e poi aiutarci con magari sostanze naturali, laddove non ci sia una vera e propria patologia, ovviamente, ma anche ci fosse, magari si può abbinare questo o quella sostanza che può aiutare ad evacuare meglio. Jane, altri consigli? Ma diciamo che questi sono i consigli cardine, che se veramente riusciamo a metterli in pratica, danno una bella svolta, quindi attività fisica, alimentazione corretta, ricca di cereali integrali, di fibre, frutta e verdura fresca e attività fisica, sono sicuramente tre pilastri fondamentali. Se proprio non si riesce, cerchiamo degli integratori adatti che non siano irritanti, soluzioni non irritanti per non lungo periodo. Beh, quello degli integratori è un mondo vastissimo, il pericolo forse è che si diventa un po' medici di se stessi, mentre si dovrebbe, come dire, cercare un consiglio qualificato su quali adottare e quali no. Sicuramente è sempre bene rivolgersi a degli specialisti, dietologi, nutrizionisti, quando ci sono questi tipi di problemi, soprattutto se durano da molti anni, perché purtroppo chi soffre di intestino pigro spessissimo, sono tantissimi anni che ha questo problema, quindi fa bene rivolgersi ad uno specialista che conosce anche gli ingredienti che si possono trovare all'interno degli integratori e dare quello più idoneo, perché ricordiamo che un fitoterapico, cioè ciò che è naturale, non è vero e non è detto che sia blando o poco efficace. Conosco moltissime persone che hanno risolto tante problematiche con l'uso dell'integratore adatto a loro, però, quindi idoneo ad ogni caso specifico. Il guaio è che ogni volta che abbiamo un fastidio sarà difficile qui smentirmi, andiamo subito sui motori di ricerca e cerchiamo di capire quale può essere la migliore soluzione, quella maggiormente adottata, che poi passa attraverso, insomma, le indicizzazioni, quindi non è neanche detto che quello che poi andiamo a pescare possa essere adatto a noi. Come giustamente diceva Jane, è importante affidarsi a degli specialisti, quindi mi raccomando. È anche vero però che il web rappresenta una finestra sul mondo, quindi per chi come te opera in determinati settori è importante arrivare a tutti. E su questo, insomma, vorrei ricordare, voi avete una pagina su Instagram, nonché un sito web dove poter andare a capire tutte le informazioni. Tu che rapporto hai con il web e con i social? E se hai qualche consiglio da dare a chi ci segue in questo momento? Il mio rapporto è sicuramente molto buono, anche se, come dicevi prima tu, faccio attenzione. Nel senso, noi cerchiamo nella nostra pagina web, su Facebook, su TikTok, apriremo a brevissimo anche un canale YouTube, cerchiamo di fare informazione. Quindi cerchiamo di dare delle nozioni semplici alla portata di tutti, perché la salute è un bene di tutti. Chiariamo questo, quindi è importante cercare di informare, perché spesso le persone prendono, comprano dei prodotti che dopo un po' rimangono lì, sono inutilizzati, perché non fanno effetto, non sono idoni, non sono efficaci. Quindi fare informazione sul benessere delle persone è importantissimo. Questa è una nostra missione, la missione della GEA, e cerchiamo di farlo tanto, impiegandoci molto tempo, sperando di dare dei consigli, spesso che possano essere utili, se non risolutivi. Quello dell'intestino pigro, per esempio, è un problema che ti viene sollevato spesso dagli utenti del web, intendo? Spessissimo, spessissimo, ma non solo dagli utenti del web, ovunque io vada, cioè ovunque io vada, abbiamo da poco lanciato un prodotto proprio per l'intestino pigro, e ovunque io vada, sento che c'è un interesse enorme, perché a casa almeno tutti hanno una persona che soffre di intestino pigro. Consideriamo che la media è di una persona su 5, a livello proprio nazionale, o meglio del mondo occidentale, e questo anche ce la dice lunga, che poi vorrei anche un attimino soffermarmi sugli effetti di avere a che fare con un intestino pigro, sul fronte lavorativo, in famiglia, nelle nostre attività quotidiane, Jane, che ci sentiamo appesandite. è molto fastidioso, molto fastidioso, perché ci sentiamo perennemente gonfi, mal di stomaco, nausea, io conosco persone che ci soffrono da 20 anni, che mi raccontano a volte che fanno fatica a dormire a pancia in sotto, ad esempio, quindi non è veramente un fastidio leggero, e bisogna porne rimedio, bisogna farlo però nel modo giusto, senza irritare. Disturba anche a livello psicologico, perché poi quando andiamo, insomma, sul posto di lavoro, siamo in famiglia, diventiamo anche irritabili facilmente, quindi non dobbiamo sottovalutare questo problema, ecco. No, dobbiamo non sottovalutarlo, però dobbiamo anche metterci in mente, che dobbiamo un po' sforzarci, di educarci a uno stile di vita diverso, perché poi vogliamo la pillola magica, ma non siamo disposti ad andare a piedi a fare la spesa, vogliamo la pillola magica, ma non ci mettiamo in mente, che dobbiamo fare un pasto, in cui ci sia un bel piatto di insalata fresca, biologica, del contadino, o comunque della verdura, della frutta idonea, quindi smettiamo di lamentarci, e iniziamo anche a fare qualcosa per il nostro benessere, perché poi queste cose che stiamo dicendo, non fanno bene solo all'intestino pigro, ovviamente. Sì, troviamo soprattutto il tempo, perché spesso ci nascondiamo dietro al fatto che manca tempo, quindi non ho modo di cucinare questo o quell'altro, e quindi vado in rosticceria, con tutto ovviamente il rispetto per le rosticcerie, anzi, spesso ci salvano la vita, però anche nel scegliere poi quello che andiamo a mangiare, dobbiamo stare attenti. Allora, dedichiamo qualche minuto in più alla nostra salute, al nostro benessere, perché poi riguarda anche la prevenzione, tutto questo. Ne abbiamo parlato prima con la Lilt, per quanto riguarda gli screening, però, come diceva il dottore Trivisonne, che ci ha preceduto in questa rubrica, la prevenzione è anzitutto adottare un corretto stile di vita, mangiare bene, insomma, e volerci bene, no? Sì, bisogna infatti trovarlo il tempo, impariamo a ritagliarci dei piccoli spazi per noi, mettiamo proprio nella nostra routine quotidiana delle abitudini sane, questo è fondamentale. E allora, noi siamo in chiusura, vorrei ricordare ancora con la nostra Jane, la pagina dove potete trovare questi e altri consigli, lascio a te la parola allora Jane. Sì, potete trovarci sul nostro sito, geagroup.it, dove ovviamente potete acquistare online i nostri prodotti, oppure abbiamo la nostra pagina Instagram, Gea Integratori, Facebook, anche TikTok, e a brevissimo un canale YouTube. Grazie a Jane Virgili per essere stata con noi, grazie ancora a martedì prossimo con le pillole di Gea.